L'Abruzzo sta perdendo gli abruzzesi e si attesta tra le prime regioni in Italia per declino demografico. In cinque anni, dal 2014 al 2019, quasi 30.000 abitanti hanno deciso di trasferirsi altrove. Insomma, è come se una cittadina delle dimensioni di Roseto degli Abruzzi fosse completamente scomparsa. E' quanto emerge dallo studio di Aldo Ronci, economista che per anni è stato osservatore dei fenomeni demografici e migratori per CNA Abruzzo. Stando ai numeri, per sei anni consecutivi l'Abruzzo ha segnato valori peggiori in termini di spopolamento rispetto alla media nazionale e il divario rispetto al resto d'Italia aumenta progressivamente. Dal 2014 il declino demografico in Abruzzo è stato due volte e mezzo superiore rispetto alla media nazionale. Nella maggior parte dei casi ci si trasferisce a causa delle prospettive lavorative. La vicina Roma, infatti, sembra offrire maggiori opportunità di carriera, così come il Nord Italia o addirittura altri paesi europei o lontani come l'Australia. Sembra più che plausibile quindi che quei migranti economici di cui tanto sentiamo parlare alla fine siamo proprio noi. Per non parlare poi dei giovani che scelgono di frequentare le università di altre regioni, dove spesso rimangono anche dopo il conseguimento della laurea. E a dare il colpo di grazia al numero di residenti in Abruzzo sono stati i terremoti del centro Italia. Lo spopolamento riguarda principalmente le aree montane, dove i piccoli borghi registrano sempre meno abitanti, ma la perdita di residenti è stata riscontrata, seppur in forma molto più contenuta, anche in alcuni comuni della costa. La città che negli ultimi anni ha perso più abitanti è Sulmona. Ben 1643 persone hanno deciso di lasciare la città di Ovidio. Sulmona è poi seguita da Ortona, Lanciano, al contrario cresce Montesilvano e il comune che registra l'aumento più sostanzioso, 1533 residenti in più. Crescono anche Francavilla, San Giovanni Tiatino, Vasto e Roseto. A mettere una pezza al declino demografico ci pensa l'Unione Europea. Il FESR, il Fondo Europeo dello Sviluppo Regionale, prevede che almeno il 5% delle risorse assegnate a livello nazionale debba essere destinato ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, delegate alle città di riferimento. Ma la Regione Abruzzo ha deciso di destinare queste risorse ai soli quattro capoluoghi di provincia, criterio diverso questo rispetto a quello utilizzato da altre regioni italiane. In Toscana, ad esempio, i fondi europei antispopolamento sono destinati a Firenze, ma anche ad altre 14 aree urbane funzionali. E mentre l'Abruzzo sta venendo scoperto da un numero sempre maggiore di turisti, anche extracomunitari, la Regione continua però a perdere abruzzesi. Per ironia della sorte, infatti, sono proprio le aree montane, quelle che maggiormente subiscono il fenomeno, ad aver registrato l'incremento maggiore di turismo. L'Abruzzo quindi diviene sempre più attrattivo per i visitatori, ma sempre meno per gli abitanti, che scelgono di far vela verso altrove, nell'esercizio dell'inalienabile diritto a migliorare la propria condizione di vita.